Bellissima gara 2, dopo un inizio di gara un po' sfortunato. Il passo l'abbiamo avuto per tutta la gara. Peccato la ripartenza del safety car, c'era un doppiato di mezzo che mi ha un po' bloccato, se no secondo me potremmo anche lottare per la vittoria. Il passo era ottimo. Sono contento del risultato e teniamo questo buon lavoro che stiamo facendo per la prossima tappa.